ciao ragazze ciao a tutti e tutti allora voglio lavare i piatti con voi quindi lavo i piatti con voi niente buona giornata a tutte buona visione a tutte allora tanto lavare i piatti perché ne sono veramente tanti non so voi ma guardate qua sono tanti vendita con un piatto insieme a candidata aspettate che mi metto così e per tempo la pietta con voi faccia a tutti prendo la scopa spazio no prima spazio in sala aspettate ho preso la scopa e spazio prima qui no prima spazio in sala aspettate no 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 Adesso vi porto, scusate il buio ma vabbè Adesso vi porto a Come si dice A vestirmi perché non so quella cosa a cavolo Vestirmi però vabbè niente E mi vesto qualcosa Ci penso prima Ci penso adesso cosa vestirmi Devo farlo prima però vabbè Niente Aspettate un secondo qua Che non voglio vedere il disordine che c'è Allora questo lo sposto di là Ok Di qui Lo so c'è un bordello Nel mio armadio però pazienza Prima o poi lo sistemerò Non prometto nulla ma sistemerò tutto Allora Ma c'è il caldo che è ancora Un caldo allucinante Aspettate ragazzi Vi poso dovevo che parte Aspettate Se vi ho messo in una posizione un po' curiosa Ma sto cercando più o meno cosa vestire Questa qua mi resta con Un pantaleggings se lo trovo Questa qua Ciao Ciao Ehi Poi il pantaleggings se lo trovo a la parte Che Sì, non c'è come. Dura, vedete come è strappato questo, è strappato non fa, no non è strappato, questo può essere, lo vedete? Questo, tra l'estivo e l'invernale più o meno, più maverile dai vedete. Eccomi qui ragazze, bella pronta per uscire ma mi sa che non esco per niente, non perché sia tardi ma perché altro perché ho telefono scarico, oddio sto moscone, che cavolo vuole? Scusate ma c'è un moscone qui, non so se si è visto nell'anteprima del video, c'era un anteprima, scusate, nel video ma ogni tanto appare un moscone, vabbè non commento. Oggi sono perseguita tra i mosconi, vabbè niente, appena posso ne faccio una, vabbè, diciamo bene la cosa. No, non pensate male, lo schiaccio, perché non so ne può più ragazze, da più ora mi sta rompendo le palle sto moscone. E niente, mi stavo lavando i piatti, ho velocizzato tutto il video perché altrimenti non ce la facevo. Oggi è la giornata non è il massimo, però ho preso di girare un po' in giro per parlare, non so se ce la posso fare, però ce la voglio riuscire. O vado il pomeriggio, ma il pomeriggio non conviene, oppure esco adesso, adesso non so neanche chi ora sia, no, non ne ho idea, saranno le 11 passate, però io non ho voglia di uscire a mezzogiorno, vabbè, no, commento. Intanto guardo, aspettate un secondo, perché, ah, vedete come sono vestita? Mi ho fatto vedere l'outfit che poi si è spenta la telecamera, non so per quale motivo, ah, sì, è la scarica, vabbè, dimenticavo che è la scarica, il telefono, e vabbè, e niente. Quindi ho fatto il video, quasi, come se voi non avete visto niente, vabbè, niente. E, che dirvi, non sono riuscita a fare tutto quanto, volevo anche esplorberare, ma se no esce il video stra lungo e non me lo guardate, o forse me lo guardate, ma non credo, non ne ho idea. Quindi, che dire, io mi ho fatto questo outfit, vabbè, sono anche senza ricicl seno, se non lo sapete. Perché, almeno, il reggiseno mi dà male di stomaco, proprio mi strizza lo stomaco, io non ce la posso fare. Quindi, perdonatemi se vedete qualcosa di inquietante, ma io il reggiseno, ahimè, ecco, vedete il moscone, ogni tanto appare, vabbè. Oggi, le apparenze del moscone ci sono, su mio canale YouTube. Ecco, mi gira per la casa, come se niente fosse, vabbè. Che vi stavo dicendo, che, che non lo so, aspettate un attimo, vedo un po' se ce lo faccio. Questo pezzo penso di tagliarlo, se no, veramente mi è annoiata di brutto pure. Perché un secondo, ragazze, torno subito. Allora, eccomi qua, è l'ennesima volta che mi disturba questo moscone, speriamo bene, perché se no, veramente, lo uccido con le mie stesse mani. Io non so perché deve fare così, aspettate, eh, un attimo solo. Dove cazzo sei? Questo pezzo lo tolgo, se ci riesco, non l'ho detto. Però ci voglio provare. Ci voglio provare a tagliare la stessa, non lo so, io, cosa devo fare. Quindi niente, ragazze, io adesso provo per oggi, io andrò un po' per Palau, portarli un po' con me per Palau. Anche se non ho la stessa identica cosa di portarli a Maddalena, però voglio girare un po' con voi. Ok? Non ho detto che riuscirò, però ci voglio provare. Non lo so, oggi è venerdì, vero? Non lo so, non ne ho idea. Boh, vabbè. Aspettate una seconda, voglio vedere la batteria, com'è. Per oggi mi sa che non so ne farla di scire, perché la batteria è agli ultimi, proprio non ce la fa per niente. Quindi mi sa che per oggi non si esce di casa. A meno che, a meno che è nulla, perché veramente è agli ultimi sgoccioli della batteria. L'ho messo in carica, giuro, però voi non lo potete vedere, perché sto caricando il telefono appunto, non ho la videocamera, la fotocamera. Però c'ho il telefono che sta in carica, quindi non so come farlo uscire, quindi è veloce che non esco. Se non è che esco di pomeriggio, può darsi, non lo so. Ma il pomeriggio è troppo pericoloso uscire, non lo so neanche io. Già. Allora, se questa Moscona mi lascia in pace è meglio, voi non lo so. Boh, vabbè, non lo so, ragazzi, cosa devo fare. Non vivo tranquilla, questo muscolo che mi rompe. Le balls. Oggi ragazzi hanno tenuto di farvi le unghie, ma ancora non so, perché siete attaccati lì, vabbè. Quindi, sto guardando la forma e vabbè, inoltre che vi dico, e non lo faccio vedere, però lo sto guardando e basta. Non si sentirà neanche il volume, però l'ho abbassata un po' e lo riabbassata un po', perché sennò veramente si sente troppo il volume della televisione e non va bene, giusto? Ciao. Bene, se questo video vi è piaciuto, non dico di mettere like o no, che di supportarmi con un commento, perché il batteria mi sa che per oggi è nada, non se ne parla proprio di... Ti, e ti... Io non so, sto muscolo ce l'ha proprio con me, ma cos'è una sorta di... di maledizione, che non lo so. Ce l'ha con me questo muscolo, lo vedete ce l'ha con me? Ce l'ha dietro davanti, vabbè, niente. Sembra che ci parla solo di quello e altro, nulla. No, veramente, mi sta... mi sta perseguitando, non lo so. Non che fossi un santo, vabbè. Niente da fare. E non mi molle, eh. Niente ragazzi, non mi molle per niente sto muscolo. Comunque per te questo, a me le canzoni di tutte queste artisti che sto ascoltando Fionale mi piacciono molto, tipo... Non lo so, Zucca, Giorgia, tipo Vivi da Fè, è bellissima. Niente, ah, avanti io sono andato in palestra il giovedì, sì, ieri sono andato in palestra, oggi cos'è? No, sì, ieri, oggi è venerdì, ieri è il giovedì, sono andato in palestra, ho fatto un bel po' di addominali, ho fatto più o meno 40 minuti, non neanche, scusate, mezz'ora di allenamento, sì, veramente non sto scherzando, mezz'ora di allenamento, se non erro, sì, ho fatto il tapirulano, ho fatto il tapirulano, poi cosa ho fatto? Ho fatto il, come dire, il tapirulano, la ciclette e anche la ciclette tapirulano, è quella cosa che si passa alle scindie, non è la ciclette, è un'altra cosa che non so che esercizio sia, comunque, vabbè, niente. E basta così, oggi mi trucco in un altro momento, ragazzo, perché tanto la batteria non vuole sapere di caricarsi, vabbè. E niente, ma oggi questo Moscone se la sta adaggendo bene, sì, se la sta adaggendo proprio bene, vero? Già. Se la sta adaggendo veramente molto bene, è cosa mia, vabbè, lo commento. Già. Bene, ragazzi, ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, like, commento e attivate la campanella. E se vi va, ovviamente, oltre a iscrivervi, supportatevi sempre con tanta gioia nel cuore, dappertutto. Di social, ciao! Ciao!